Oh! Occupato! Come occupato? E che su delle sei del mattino di entrare al gabinetto? Ho detto mamma che dovevo studiare il catechismo che la mattina ho la testa più fresca. Catechismo? Ah già, tu quest'anno c'è la prima comunione. Papà che c'è gli occhiali di una sorella? Sì, gli occhiali di tua sorella. Ah! Mamma vera detta! E che hai mangiato? I tulipani? I fascioli con le cotiche. E si sente? Perché non la fai nella tazza? Perché ho detto mamma che dovevi vedere se c'ho i femmini. Io ce l'ho ai verbi, io!